Tutti questi cambiamenti abilitano e fanno parte della quarta rivoluzione digitale. Io proprio non capisco dov'è, 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 dov'è. Ah, non si può proprio, non si può fare così. Andrea, Andrea, ti disturbo? Certo che mi disturbi, sono qui. Mariano, lo sai che sono qui in montagna sugli sci, cosa c'è? Andrea, ma ho appena visto il tuo intervento sul Rai 1, ma questa posizione proprio non la capisco. Tu parli delle telco e dici che bisogna abbassare la concorrenza, bisogna combattere la riduzione dei prezzi. Ma cosa ti sei fumato? Non possiamo prendere una posizione del genere. Ma Mariano, Mariano, non hai capito proprio niente. È demagogia pura guardare solo alla riduzione del prezzo e quindi ai benefici per il consumatore. Il settore telco non è un settore normale. Hai in mano oggi l'infrastruttura più importante per il nostro futuro, quella che abilita la quarta rivoluzione industriale, lo sai? Sì, ok, va bene. Ma proprio perché è importante, io credo che una concorrenza più aperta possa andare alla fine anche a vantaggio della qualità. Mariano, non è un problema di concorrenza. Qui siamo l'Italia, il paese europeo, in cui i prezzi dei servizi di telecomunicazione si sono ridotti di più negli ultimi anni e oltretutto nello stesso periodo i prezzi di tutti gli altri servizi di utilità, energia, gas, acqua, rifiuti, sono aumentati. Prezzi troppo bassi, no lasciami finire, prezzi troppo bassi significano margini bassi e quindi minore possibilità di investire nelle reti nuove generazioni, cioè nel nostro futuro. Quindi fammi capire, tu dici bisogna stare attenti a non compromettere la salute del settore che è importante per il nostro futuro. Questo l'ho colto, ho capito, ma allora che cosa si deve fare? Cioè qual è la proposta? Non lo so, non è facile. Io penso che occorra tutelare, proteggere questo settore, probabilmente anche con interventi specifici del regolatore e del legislatore. Però allora Andrea, se è così, non possiamo lanciare il sasso nello stagno e poi non fare niente. Bisogna essere propositivi, comunicare meglio, insomma bisogna fare qualcosa. No, no, va bene, va bene, fatelo tu questa settimana, dai, io torno a sciare, basta, ciao. Andrea, Andrea, cioè il paese ha bisogno e lui pensa a sciare.